In questo video giocherò a Piggy invernale Comunque iniziamo So, quindi tutti hanno avuto i loro regali l'uno per l'altro? Dammi solo 10 minuti, torno subito Oddio sono io intanto ai mostri diciamo in pratica Devo trovare i regali tutti per loro e velocemente Oddio tutto buggato non penso che sia un buon segno E raga ci dobbiamo uscire qua raga no Dobbiamo assolutamente scappare da Piggy perché in queste zone si aggira I 10 porcellini si sono svegliati oh madonna santissima Quella giraffa anche intende? Oddio raga, cioè raga Sono, oddio Un po' buggato Oddio santo Non ci posso credere Sono stato già chiappato ma come faccio? Sia un'età angelica che chi non lo saprebbe E' una mia amica che ha partecipato già a un video in questo canale Che era quello in cui facevamo le box Cioè la box di Natale Dunque, cioè ci sono questi monete a forma di maiale E io ne ho ben zero Sono entrato, sono entrato Ma raga siamo tipo 100 giocatori E dunque ha vinto la vacanza invernale 10 bot, io scelgo 10 bot sinceramente C'è raga Scelgo 10 bot Penso che è infezione Perché raga se ci prende piggy Noi diventiamo piggy No, cunca 2020 Vabbè Ehm, normale Io scelgo normale sinceramente No, no Coniglietto mod no eh Voglio normale per favore Scegliete No Ok, normale è stato selezionato Dunque, andiamo Allora Mi viene un po' di ansia Perché io sinceramente non ci so giocare Vabbè Eccoci di nuovo nella mappa di prima E raga Ma chi è sto robo? Ma chi è? Un campo Un campo dove Cioè dove c'era Dorothy Sì comunque è carina sta mappa Cioè è molto carina E ora si risveglieranno penso quei piggy Ma sono 10 piggy Oppure Oddio piggy si è svegliato Ed è solo uno Che è sto robo? Cioè se lo tocco cosa succede? Ah no, non succede niente Mi solo ferma tipo Oddio dove è piggy? Dove è piggy? Raga Raga dove è piggy? Cioè perché mi sta venendo agitazione raga Sono molto agitato perché Oddio Eccolo No raga Raga Dobbiamo andare indietro Corri, 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 corri Corri, 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 corri Vali, 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 corri, corri Non sembra che sto proprio davanti raga Muoio di paura Perché è quello? No raga Eh però sono diventata piggy Ah è vero è bello però essere preso da piggy Oddio Cos'è questo coso? Cos'è questo coso? Ok Devo prendere gli altri penso Cioè raga Chi diventa questa mucca è bellissima Ma che è sto robo? Sto spaventapass Sì spaventapass Il Il Come si chiama? Il Cioè quindi devo prendere gli altri giocatori Quanto mi sembra Però è figo Figo l'infezione perché Raga Dobbiamo entrare qua dentro Perché sono sicura che almeno uno Oddio Ho preso questo Ho preso questo Oh l'ho preso L'ho preso L'ho preso Ah sì sì Oddio Penso che la partita sia finita Però mi prendi in continuazione piggy Cioè raga Non ci riesco un secondo Eh si è buggato raga È così E poi Vabbè andiamo avanti Scelgo Libro 2 Nave Che figo Oppure fabbrica Forse fabbrica Sì Mi ispira Non lo so poi No vacanza invernale No eh Io ci bot Anzi giocatore Giocatore secondo me Vabbè giocatore Tanto ha vinto Oddio Oddio perché mi punta la pistola Oddio Che è successo C'è un buco dunque Sembra che qualcosa stia arrivando da lì Non suona troppo amichevole per me Poi Inoltre è un'arma Non è troppo giusto Non è molto divertente E Mmm Ale Raga del tutto si è buggato Però raga Mi sono Sì Comunque non rischierei di andare su Perché c'era tipo Quella specie di luce Oh santissimo Oddio Oddio santo E' morto uno Cioè è proprio caduto Precipitato qua sotto Bruciato Oddio Questo mi sa un po' troppo pauroso Ehi raga tutto è buggato Questa mappa Ehm Ho visto pighi Ho visto pighi Maglio scappare Maglio scappare Questo dove è uscita Io penso che sia sicura andare qua Comunque è sempre buggato sto gioco O È un problema Oppure fa sempre Problema di connessione sicuramente Allora però vediamo Mi sembra strano però E ho paura Paura Troppo paura Oh si è sbloccato Per fortuna Si blocca E poi si sblocca Raga Allora dunque Cioè se spingete qua Sul 6 Praticamente Avrete la possibilità Di correre Che è successo Si è tutto buggato Perché rimane sempre A 7 minuti e 45 Ora davanti si sblocca Così Oddio Sono accucciato Oddio Cioè raga Oddio Ho il piede dentro Il Il terreno Cioè dentro Vabbè Dentro sto robo E poi Raga Io mi risorgo Dunque Questo video È finito Qui Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Lasciate un bel like Lasciate un bel commento E condividete questo video Con tutti E vi ricordo Che domani È Natale Ciao Ciao